Da Omero fino a Tolstoi e fino ai giorni nostri, la guerra è stata esaltata come un'espressione dell'amor di patria. Tutti gli italiani conoscono il famoso finale dei sepolcri di Ugo Foscolo. E tu, onore di pianti, Ettore avrai, finché sia santo e lacrimato il sangue per la patria versato e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Ebbene, questo finché, questo limite ormai è stato raggiunto. Perché oggi, oggi un sangue versato in una guerra atomica per la propria patria non potrebbe essere lacrimato e pianto. Perché? Perché sarebbe un sangue che contribuirebbe soltanto a distruggere la propria patria. Oggi si ama la propria patria in un altro modo, col lavoro, col rifiuto dei pregiudizi e con l'intelligenza di rifiutare questi pregiudizi. E con la rinuncia a quei privilegi da parte di quelli che eventualmente ne beneficiano ancora. E anche proprio l'ultimo verso del Foscolo. Anche lì è stato raggiunto, questo limite ormai è raggiunto. E finché il sole risplonderà sulle sciagure umane. Questo finché, perché nel caso di una guerra atomica, il sole non risplenderebbe più. Il sole sarebbe oscurato dal bombardamento atomico. E quando poi dopo tornerebbe a risplendere, non illuminerebbe più le sciagure umane. Perché non ci sarebbe più umanità. E questo che gli imbecilli vogliono? Noi abbiamo paura.